Oggi siamo qui con Marco Zaffaroni, C.O.O. di CheBanca. Secondo te si può parlare di un nuovo ruolo del C.I.O. in relazione alla cultura analitica del dato in azienda? Sì, il nuovo ruolo del C.I.O. si basa su due fondamenti. Un primo fondamento che è un po' più tradizionale, classico, cioè garantire l'integrità del dato, la fruibilità del dato, quindi l'utilizzo degli strumenti e la garanzia della sicurezza dei dati aziendali. Dall'altra parte però assistiamo ad un emergere di nuove piattaforme, di nuove funzionalità, nuovi modi con cui occorre interagire con il dato per trarre le informazioni necessarie al business della banca o alla valutazione di determinate progettualità. Ecco, in questo scenario, pur nel rispetto della garanzia dei costi e degli investimenti per poter percorrere dei progetti che abbiano un ritorno di investimenti, ovviamente. Ecco, in questo scenario, diffondere la cultura da parte del C.I.O. all'interno dell'azienda credo che sia particolarmente interessante. È un momento di cambiamento e questo momento di cambiamento serve poter diffondere questa cultura. Che cosa ci raccontano i dati se vengono opportunamente analizzati? I dati ci raccontano tanto, molto. Bisogna saper poi interpretare questo racconto, bisogna capire e trarne poi le informazioni opportune. Io posso portare un esempio di una POC che è stata fatta in azienda recentemente, in Chebanca, dove abbiamo voluto analizzare il mondo delle filiali territoriali mettendo in correlazione due dati apparentemente molto diversi, che sono quello dell'operato dei colleghi di filiale rispetto ai dati che derivano invece dall'utilizzo delle piattaforme tecnologiche presenti in filiale. Le piattaforme tecnologiche nelle filiali di Chebanca sono parecchie, dalle service station agli ATM a tutta una serie di strumenti di CRM. Il poter raccogliere tutte queste informazioni e poterle in modo, lasciami dire, destrutturato con motori di intelligenza artificiale o comunque di analytics, poterle mettere in correlazione con l'operato dei miei colleghi, che operano presso dei filiali, con ovviamente una vista rispetto al portafoglio della clientela presente in quelle filiali, ci ha dato un quadro d'insieme particolarmente interessante. Un quadro d'insieme che ha definito determinati orari di picco di operatività, rispetto al fatto che utilizziamo in modo più o meno corretto le apparecchiature tecnologiche in relazione alla nostra strategia, che è quella di utilizzare l'umano per operazione a valore aggiunto, quindi per il mondo degli investimenti e del servizio al cliente, e invece di rottare verso la tecnologia tutte quelle che sono le operazionalità più banali, lasciami dire, a basso valore aggiunto. Ecco, questo mix di informazioni elaborato con questi motori di analytics ci hanno fornito un quadro interessante, particolarmente interessante. Ecco, quanto è importante secondo te mescolare le competenze, le professionalità, magari attingendo a risorse non solamente del mondo bancario, ma per esempio da giovani oppure da tutto il mondo delle academy? È particolarmente importante. Si diceva prima, stiamo vivendo un cambiamento, un cambiamento dove gli strumenti danno delle potenzialità estremamente importanti, estremamente elevate e trovare spazio all'interno della realtà aziendale su come utilizzare al meglio questi strumenti è sicuramente una delle sfide più importanti. Questa sfida non è soltanto e non può soltanto risiedere nelle mani dell'information technology della banca o dell'organizzazione bancaria. Deve poter essere pervasiva anche in tutte le unità di business, le divisioni di business e di staff della banca stessa. A questo proposito stiamo cercando ad esempio di creare cultura di quali sono gli strumenti, cosa si può raggiungere con questi strumenti all'interno della nostra azienda tramite un'operazione di academy che non ha nient'altro che il compito di far comprendere quali sono le potenzialità degli strumenti, farle comprendere ai colleghi del business, farle comprendere ai colleghi della compliance e così via, in modo tale che innanzitutto non si creino false aspettative progettuali e si approccia la progettualità sempre in modalità agile insieme a tutti i colleghi con la convinzione di dove si può arrivare rispetto agli strumenti che abbiamo in dotazione. Questo lo riteniamo un forte acceleratore progettuale, nonché abilitatore a trovare quegli use case più interessanti per la banca relazionati appunto al mondo dell'IT e al mondo delle soluzioni informatiche. Ecco, un'ultima domanda. Mi piacerebbe sentire una tua definizione sugli analytics. Beh, gli analytics ci permettono di capire il mondo che ci circonda. Ci permettono dai dati di trarre le informazioni, informazioni che sono interessanti, possono essere interessanti per meglio indirizzare il business, clasterizzare la clientela, i bisogni della clientela, ma sono anche interessanti per capire se i processi aziendali sono tarati al meglio, dove sono migliorabili o dove sono deficitari. Sono interessanti ovviamente come KPI per tenere il controllo dell'azienda, per tenere il controllo degli obiettivi che in azienda si vanno a prefiggere. In una parola direi che gli analytics sono l'anticamera per arrivare alla conoscenza. Grazie tante. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.